A partecipare ad all'unisono stasera saranno Ele Noir, Francesco, Ciro e Fabio, venite. Vai! Venite pure qua al centro del palco, una coppia di fronte all'altra, voi mettetevi qui, voi posizionatevi di fronte, dovete parlare all'unisono. Io vi do una trama e voi la seguite. Ok. Va bene? Va bene. Allora, loro due sono due dottori, sono due nutrizionisti. Sì. E voi siete due clienti, due potenziali pazienti che vogliono fare una dieta depurativa. Noi siamo credibili come dottori, sì, nutrizionisti. Certo, voi siete... L'importante è che ci credi tu, eh. Voi siete i dottori, voi siete i pazienti, partite. Buonasera, vorremmo avere una consulenza per una dieta rigenerativa. Depurativa! 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 Non ce ne me la vuoi! Non ce la depurativa! Va bene. Rigenerativa! Rigenerativa! Non serrabbi! Rigenerativa! Benissimo! Buonasera! Siete nel posto giusto, ma anche se non sembra! Noi vi consigliamo di bere sette, otto lattine di birra. Ma state facendo il gioco dei mimi o ci state dando una dieta seria perché sembrate due imbecilli? Ma vi dovete spiegare che all'unisimo significa insieme. Questo volevamo dire. Questo gioco si chiama all'unisimo, lei deve parlare contemporaneamente a Ele Noir. Certo. Se lei corre, va molto veloce. Lei è in difficoltà. Signor presentatore, noi abbiamo fatto bene. Benissimo. Se ne è stato bravissimo. Se ne è stato bravissimo, complimenti. Complimenti, complimenti. Non è stato bravissimo. Noi vediamo che con sette, otto lattine di birra andate in bagno a fare la pipì e vi devurate. Ma noi non vogliamo. Stai aspettando. Stai aspettando. Dai impegnati. Impegnati. Stavo aspettando che lei... Fai l'umo. Fai l'umo. Fai l'umo. Fai una forte componente femminile. Fai un po' legate. 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 Quindi io adesso sono la dietologa. Adesso tu sei la dietologa. Lei è più credibile come dietologa. Siamo anche più credibile di Fabio e voi siete giustamente più pazienti. Siete pronti? 3, 2, 1... Non ho proprio toccato. No, no, lo so, lo so, lo so. Buonasera, siamo qui per avere una dieta diuretica. Io credo di aver capito qual è il problema, ma facciamo comunque una verifica. Noi abbiamo capito l'ultima parola. Depurativa. Diuretica. Che raggi capite, manchi? Depurativa. Non diuretica. Io avevo capito. Ma voi sapete a noi cosa ci serve. Ma voi adesso ci avete detto che volevate la dieta purificatrice. Ma scusate, a questo punto non le possiamo avere tutte tue. Questa la la ho capito più. Eh, Mari! Che lasciate il fischietto, se? Lui è bravo. Non capisce che dice, ma è bravo. Beh, è bravo. Lo fa male, ma bene. Ehi. 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 Ehi.